Mary Jane ASMR Ciao Bentornati ragazzi Bentrovati su questo magico, magico canale ASMR Oggi voglio purificare il pensiero di noi tutti Di chi mi sta a guardare e so quanto mi piaccia questa sorta di pratica Che ha la sua magia dietro Allora questo sarà un video speciale Di rimozione dei pensieri Negativi chiaramente Per far sboccio soltanto ai buoni propositi Ai lieti pensieri Alle buone iniziative E quando faccio questo tipo di video Io mi sento ancora più immersa Nell'ASMR Non posso spiegare bene a parole Il perché Però mi sento un'altra Quando faccio questi video Purtroppo non posso portare sempre questi video Sarebbero sempre gli stessi altrimenti Come al solito Se vi piacciono i miei contenuti Lasciatemi un like Condividete il video Con i vostri amici Commentate Che è grande supporto E soprattutto Iscrivetevi al canale Bene Mettetevi comodi Rimanete da soli Ok? Perché questo è un momento Tutto nostro Straiatevi State sul divano Dove più vi fa stare bene Restatevi Se avete un po' di freddo Mettete anche un freddo Qualcosa che vi faccia sentire A vostro agio Io inizierò Con il magico Prelievo Buon rilassamento Allora Per prima cosa Prima di iniziare Prima di iniziare questa sorta Di rituale Voglio andare a purificare L'ambiente attorno a me Come a borde di solito faccio E quindi io Andrò a purificare De me La stanza Prima di iniziare Per prima di iniziare Per prima di iniziare Attorno a te Attorno a te Attorno a te Attorno a me E tutto il resto attorno Per prima di iniziare Per prima di iniziare E questo Questo è il palo santo Alcuni di voi mi chiedono cosa sia Quando lo vedono nei miei video Che pare una sigaretta E un palo santo E un pezzetto di legno Che tra l'altro Un profumo buonissimo Serve a purificare l'ambiente Ok Adesso Facciamo assorbire Alla candela Le energie brutte No? Facciamola assorbire alla candela Tutte le energie brutte Accendiamo questa candela nera Che assorbirà E allo stesso tempo Purificherà i nostri pensieri Ok Questa io la poserò alle mie spalle Tra un poco Chiaramente posso stare con Con La candela in mano Però Cabelli sul trigger Ve la faccio vedere Prima di posarla Ve la faccio vedere Prima di posarla Ok Qualcosa è successo? Ho sentito un rumore? Lo so Bene Bene cosa sia successo? Adesso Io lo metterrò E Può dichiarlo Perchè così Perchè così Aderisci bene alla candela non so che devo centrare il punto della giotolina ok ok ragazzi questa candela adesso ci accompagnerà per tutto il rituale sperando che non cada e non vada tutto a fuoco la poso qui lei raccoglierà tutte le negatività e allo stesso tempo purificherà ogni tanto mi girerò per guardare se non è scoppiato l'incendio tranquilli non succede nulla non è la prima volta che lo faccio vedo vedo parecchi pensieri che attanagliano la tua mente mi sembra quasi di sentirle nelle orecchie prelevo questi pensieri uno per uno 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 spritzer 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 prelivo 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 tutte le angosce tutti i tormenti i tormenti tiro fuori zac 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 spritzer prelivo tutta l'ansia prelivo tutta la paura tutto il malessere e taglio zac 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 spritzer 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 prelivo prelivo tutti i pensieri tristi prelivo tutte le difficolità tutti gli ostacoli che incontri nella tua vita che non ti consentono di portare a termine i tuoi obiettivi li rimuovo questi pensieri che ostacolano, che bloccano l'anima la mente e il corpo taglio Maggia spritzer 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 mando via brilli 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 e taglio zacc 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 sfricciolo sfricciolo mando via molto 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 lontano vediamo qua questa è una rete ragazzi questa è una rete ragazzi di pensieri che si incastrano l'uno con l'altro e arriva fuori un pensiero poi ne arriva un altro che si lega a quest'altro un'altra negatività qui un'altra negatività qui un'altra qui un'altra qui e pof la mente va in tilt ma noi le togliamo tiriamo fuori piano 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 mentre la candela bruggerà assorbirà mentre si scioglie tutte le negatività zacc 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 zah zacc ed stanno finendo finalmente vado a rire 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 tiro, tiro, tiro fuori strocco strocco plak 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 del tuo momento via zack 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 ora zack 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 ora la tua mente si sentirà meglio e sarà pronta anche a riposare meglio non pensare più a ciò che ti ha causato turbamento alle situazioni che non si stanno risolvendo si risolveranno purifica purifica il tuo pensiero con un pensiero positivo con un proposito positivo la candela la candela mentre brucia porta via ogni sorta di pensiero brutto tu non devi temere non devi aver paura che la paura è solo qui la paura è solo qui nella nostra testa non devi aver paura perché le cose si sistemano si mettono a posto io per oggi ho terminato per oggi il mio compito qui è finito ti aspetto in un prossimo video ciao ciao